Senti Luca, io volevo venire a Bologna domani, so che tu andrai, volevo venire anch'io per vedere questa partita, perché tu sai, io sono nato a Bologna e quindi sto a Cesena. Ah, non credo mica che sia un vanto, né per uno né per gli altri. No, ho capito, però temo di essere il cinquecento unesimo, ma cos'è sta roba dei cinquecento tifosi? L'hanno fatto apposta, perché così tu non vai e fai felice due città in un colpo solo. No, 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 io vado con la carta d'identità di Bologna così, vado ad altri tifosi rosso-blu e le prendo. La carta d'identità è una quando eri in quelle quattro case di cura lì a Imola che avevate voi che c'erano più case di cura che abitanti. Chiamavano manicomi. Lasciamo stare, non facciamo quelle parole. Poi, comunque, a proposito dei cinquecento, cinquecento tifosi per ora senza tessera che sono autorizzati ad andare a Bologna, che Campedelli ha garantito per loro. Ma Campedelli giochi in casa, me lo sai perché? Come in casa a Bologna? No, giochi in casa per questo motivo, perché lui, che da sempre è impegnato nel settore di Ile, ha la cazzuola, il martello, la carriola, così se per caso gli altri tirano giù la torre degli asinelli, lui e i suoi collaboratori sono pronti per rimetterla a posto, capito? In pratica giocano in casa dal produttore al consumatore. Io credo invece che questa cosa che è venuta fuori, che lui garantisce personalmente, cioè è un'aberrazione dal punto di vista del codice civile. È già successo, è già successo, è successo anche a Bari, una situazione simile, è successo due anni fa a Ferrara, insomma sono cose che, poi il codice civile, di solito leggevi la guida Michelin solo a gastronomia, ci sei messo anche a sconfinare la giurisprudenza, mi sembra che sei un po' malato, eh? Lasciamo stare. Entrambi abbiamo fatto studi di legge, io li ho interrotti, tu li hai finiti, vedi? E alla fine non sappiamo né legge né scrivere, nessuno dei due. Senti, no, però, allora, quindi, io vado a Bologna, vado in un negozio di vicino allo stadio, rubo quello che mi pare, paga Campedelli? Beh, adesso, speriamo che non sia proprio così, capito? Speriamo che invece tu poi due belle mangano alla polizia, che forse torni normale. Comunque, domenica, contro il Bari, che io ho notato che il gol della vittoria è arrivato appena sei andato via, sarà anche una coincidenza, però io ci guardo certi particolari. Quel gol non l'ha fatto Bologna. E chi l'ha fatto? Eh, quella palla che pian piano rotola, poi sembra che vada fuori, poi invece prendi il palo, rimane lì e va dentro. Lì ha soffiato tutta la curva mare, tutti insieme, da cento metri di distanza e hanno indirizzato il pallone. Ma è quello che devono fare, e mi sembra che tu l'abbia anche scritto sul Carlino, eh. Non tradite il Presidente. Beh, sai, dopo che uno si prende una responsabilità del genere e li porta là, se lo tradiscono sono davvero dei caproni. Comunque c'è un altro modo per andare, tu sai che in questo momento il Bologna non sta andando benissimo per un campionato eccezionale. Allora, se gli portano da Cesena dei cappelletti, che non sono poi altro che i tortellini degli miliani travestiti. Senza la carne però. Travestiti. Senza la carne. Se gli portano della piadina, e se gli portano anche dei babbi, che tu li hai tutti dentro la pancia. Qui, qui, qui. Allora, davvero, si possono divertire anche i bolognesi, restano nell'ozio e guai svegliarli. E allora il Cesena potrebbe fare un altro colpaccio. Ma dovrebbe neanche un colpino. Un colpino.